Quattro giorni dopo la pioggia eccezionale che si è abbattuta su diverse province della Toscana, l'assessore regionale alla presidenza Vittorio Bugli, dopo il sopralluogo di lunedì scorso nei comuni più devastati Gambassi Terme, Certaldo e Montespertoli, ha incontrato ad Empoli sindaci per fare il punto della situazione e avere entro venerdì prossimo un quadro dettagliato dei danni subiti. Dopo aver dichiarato l'emergenza regionale, la Toscana è in attesa del riconoscimento da parte del governo dell'emergenza nazionale e della calamità naturale e nel frattempo la regione ha anticipato le spese per gli interventi di somma urgenza e non solo. Abbiamo deciso di mettere a disposizione un microcredito per le imprese, sia industriali, commerciali, ogni tipo di imprese, anche agricola, microcredito fino a un massimo di 20.000 euro da restituire in 10 anni, però partendo non subito ma dal terzo anno e senza costi e più che altro anche senza garanzie, basta venga dimostrato che c'è stato un danno e che crediamo questo possa essere uno strumento importante per quelle attività relativamente colpite diciamo e possano così prendere un po' di fiato. Basterà infatti dimostrare di aver subito danni a seguito del nubifragio. Le domande dovranno essere inoltrate a Fili Toscana.